Non è servito cambiare anche molti giocatori nel corso della partita, cos'è che non ha funzionato? Sì, purtroppo non abbiamo murato tanto come abbiamo murato contro Ravenna, neanche la difesa è andato bene, quindi adesso bisogna ricominciare perché abbiamo una partita molto importante contro Milano, a Milano mercoledì, quindi dobbiamo pensare solo in quello adesso, dobbiamo recapitolare, pensare cosa non è andato bene oggi e allenare di più. Rispetto all'ultima vittoria, non è che magari c'è stato un po' di adagiamento, si è arrivati forse con uno spirito diverso? No, 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 non credo proprio, oggi abbiamo giocato contro una squadra che secondo me gioca tanto bene, hanno dei giocatori forti come Voto, tutti i centrali sono forti, ma secondo me abbiamo perso per i nostri errori perché loro hanno giocato tantissimo meglio di noi. Nel primo set abbiamo fatto tanti errori, abbiamo giocato al 30% di errori, il secondo set anche al 25%, quindi sono tanti errori quelli per giocare contro squadre come queste che secondo me ci permettono qualcosa, quindi adesso bisogna pensare alla prossima partita. Grazie, in bocca al lupo. Prego.